Niente passi indietro e la richiesta invece di riconvocare tutti al tavolo entro l'inizio di dicembre, magari alla presenza dello stesso Michele Laforgia dal momento che si tratta di un candidato al sindaco di Bari a tutti gli effetti, l'associazione La Giusta Causa torna a riunirsi in vista del vertice del centro-sinistra barese della prossima settimana, non ancora convocato e in agenda per lunedì, almeno sulla carta, in cima alla lista degli ordini del giorno dell'Assemblea, riunita nel comitato di corso Vittorio Emanuele II, alla presenza anche della cosiddetta Convenzione per Bari, dei firmatari del Manifesto di Ogni Santi e pure di Italia Vive e Movimento 5 Stelle, ci sono le comunali di giugno, l'ultimo incontro dell'Alleanza nella sede DEM di Viare David si è chiuso con un muro contro muro, da una parte la richiesta di azzeramento delle proposte firmata dal Partito Democratico è valida non soltanto per quelle interne, dall'altra l'area a sinistra della Convenzione che ha offerto agli alleati la candidatura del penalista La Forgia e adesso chiede al PD di spiegare i motivi di resistenza rispetto al profilo in questione, in mezzo quello che da sinistra definiscono un maldestro tentativo di trasformare la discussione in una conta di voti, nessuna volontà di spaccare confermano da entrambe le parti, ma le posizioni restano lontane.